Oggi noi siamo molto legati all'immagine di Verdi come eroe del Risorgimento, che la sua musica ha spinto e sollecitato ed eccitato i sentimenti risorgimentali. Si è ormai messo a fuoco che l'opera non aveva in realtà nell'Ottocento un reale ruolo nell'esaltazione degli spiriti risorgimentali e forse questa è un po' una costruzione successiva all'unità. È indubbio che comunque la capacità di Verdi di leggere il proprio tempo e di avvertire i fermenti degli anni 40 e 50 che animavano il paese è chiaramente riflessa nel suo teatro civile, che è un teatro di profonda umanità, di penetrazione dell'animo umano e soprattutto di forti sentimenti e ragioni civili. Questo è forse il più importante apporto di Verdi, un apporto non diretto, non è il coro che esalta, ma è la più sottile penetrazione di concetti civili, di sentimenti, di esortazioni morali ed etiche. Poi c'è però un altro Verdi, il Verdi che seguiva i fatti della politica da vicino ed è stato in qualche modo, anche su una grado costretto a parteciparvi. Da un lato un Verdi che si esalta per le gesta dei nostri patrioti e soprattutto per le grandi battaglie del 1859 e poi c'è il Verdi che viene coinvolto direttamente nella politica. Un po' si fa coinvolgere lui con le attività di beneficenza, quando per esempio raccoglie somme per le famiglie dei soldati bussetani nelle guerre del 1859, oppure quando viene cooptato nell'assemblea delle province parmense del 1859, che era il parlamentino che avrebbe dovuto portare il ducato di Parma all'annessione col Piemonte. Lui vota tutte le cose che bisognava votare, cioè sostanzialmente la decadenza della dinastia borbonica e lui stesso è fra i firmatari della mozione per l'annessione al Piemonte. Piemonte porterà in una delegazione appositamente nominata egli stesso i risultati di questa volontà popolare espressa dall'assemblea delle province parmense direttamente a Vittorio Emanuele II a Torino. In quell'occasione incontra Cavour, pensava fosse un incontro meramente amichevole di stima e poi invece diventa una sorta di trappola per Verdi perché Cavour intuisce che Verdi è l'uomo che può portare più voti e può diventare anche alla causa liberale una sorta di claim per il nuovo Parlamento del Regno d'Italia e lo spinge a candidarsi alla prima Camera dei Deputati del 1861. Verdi si candiderà, sarà eletto ovviamente, rimarrà in Parlamento per tutta la legislatura, in realtà lo frequenterà solo fino alla morte di Cavour e in quel breve tempo in realtà non farà altro che votare come votava Cavour. Ma finito quell'esperienza verrà in realtà solo in Parlamento verso la fine del 1864 quando ci sarà un motivo per lui, cioè quello di discutere gli emendamenti per la legge sul diritto d'autore che gli interessavano molto da vicino. Ma non essendo poi riuscito a influenzare quella legge, di fatto poi dopo alla fine della legislatura non si farà più vedere in Parlamento e anche quando sarà eletto, sarà nominato perché nel Senato si veniva nominato nel 1874 al Senato in realtà non si farà mai vedere. Ma durante tutto questo periodo Verdi non smette di parlare di politica, non smette di riflettere sulla politica e nel grande e lungo carteggio con il Senatore Piroli, suo vicino peraltro nello scranno del Deputato, lascerà moltissime dichiarazioni, moltissimi dei suoi pensieri sulla politica post-unitaria che sostanzialmente aveva deluso tutti quelli che come lui avevano creduto negli ideali e risorci mentali.